La Guardia di Finanza ha confiscato beni per oltre 94 mila euro a un vicentino di 79 anni, amministratore di una società in liquidazione che si occupava di orificerie e fabbricazione di oggetti di gioielleria. Il provvedimento delle fiamme gialle segue una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dell'uomo emessa dal Tribunale di Vicenza per dichiarazione fraudolenta e emissione di fatture per operazioni inesistenti. I finanzieri hanno sequestrato 8 mila euro da un conto corrente, quote azionarie per oltre 33 mila euro e una quota di una proprietà immobiliare per altri 52 mila euro. In sostanza il 79enne aveva indicato nella dichiarazione dei redditi del 2011 14 fatture per operazioni inesistenti emesse apparentemente da 7 società che però non avevano mai avuto rapporti di lavoro con la società dell'uomo, causando così evasione fiscale e detrazioni non dovute. I beni erano già stati sequestrati nel 2017 ma ora con la sentenza definitiva diventano di proprietà dello Stato.